La natura con gli occhi delle donne, anche l'associazione Donne e Diritti di Villa Ricca partecipa con dei manufatti artigianali alla manifestazione di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne Non sei sola. Vi ricordiamo che la manifestazione è una tre giorni con convegni, incontri, uno sportello che Donne e Diritti ha attivato presso la propria sede. Tutto potete trovare sul nostro sito nonseisola.illimitarte.com Da domani, primo luglio, vi aspettiamo dalle ore 16 in poi, il giorno 1, 2 e 3 luglio.